Il Biotestamento è in discussione da ieri al Senato, avete detto che voterete a favore, è l'inizio di un nuovo stile, di un movimento pronto a stringere intese su alcuni punti, nel caso in cui doveste arrivare i primi, ma non avere la maggioranza, le politiche? Secondo me intese, alleanze e coalizioni fanno parte del vocabolario della vecchia politica. Noi arriveremo come prima forza politica alle elezioni del 2018, siamo già la prima forza politica del Paese. Quella sera delle elezioni vedremo le coalizioni di centrodestra e centrosinistra disgregarsi. Io chiederò l'incarico di governo al Presidente della Repubblica e seguendo le procedure costituzionali consulterò tutte le forze politiche, avviando delle consultazioni. Metteremo al centro i temi, il diritto di un giovane italiano ad avere un contratto duraturo e non rinnovato ogni due mesi, il diritto degli imprenditori di avere meno legge. Metteremo al centro questi temi e intorno a questi temi chiederemo la fiducia. Se ci sarà la fiducia partirà il governo che cambierà l'Italia. A proposito di tasse, avete parlato di taglio dell'IRPEF, tagliando le spese, tagliare le tasse a chi, tagliare le spese dove? Noi presenteremo la nostra riforma del fisco a breve e avrà tutte le coperture economiche. Sapremo e saprete dove andare a prendere i soldi per questa manovra. Vi posso anticipare che aumenteremo la no tax area, quindi le persone in difficoltà saranno di più quelle che non dovranno pagare le tasse e abbasseremo le tasse sul ceto medio per restituirgli potere d'acquisto, perché il ceto medio è stato massacrato dai governi degli ultimi vent'anni. In questi anni avete sempre chiesto le dimissioni di qualunque politico fosse coinvolto in indagini. Avvisi di garanzia sono arrivati adesso a diversi vostri esponenti. L'accusa che vi viene rivolta è di essere sempre molto indulgenti con i vostri e molto meno con gli altri. Noi siamo nati con una proposta di legge che chiedeva ai condannati di non entrare più in Parlamento. E oggi abbiamo un codice etico che impedisce ai condannati in primo grado di ricoprire cariche nel Movimento 5 Stelle. Facciano anche gli altri come noi e avremo una politica diversa che finalmente risolverà la questione morale di cui parlava Berlinguer. La decisione di Trump su Gerusalemme la ritiene opportuna? Secondo me è una decisione che crea tensioni in quell'area che io conosco, ci sono stato e credo che dobbiamo mirare a creare due stati, due popoli, riconoscendo lo stato della Palestina. Questi atti mettono tensione.